Io sono abbastanza convinto che la Merkel è sincera quando dice se salta l'euro salta l'Europa, cioè lei vuole davvero che si mantenga l'euro, però va aggiunto, vuole tenere insieme la zona euro alle condizioni tedesche, condizioni che lei stessa ha assunto proprio in quegli anni dicendo dobbiamo fare come la casalinga sveva. La casalinga sveva è un concetto, gli svevi hanno un po' la stessa nomea dei genovesi in Italia, cioè sono persone rigerate, che non fanno mai debiti, che risparmiano eccetera e lei afferma, a livello economico non è molto sensato come concetto, lei afferma che uno Stato vada governato come il bilancio familiare amministrato dalla casalinga sveva. Aggiunge non possiamo vivere al di sopra delle nostre possibilità. Anche questa è un'analisi abbastanza, diciamo, riduttiva della crisi dell'euro, un po' la butta sull'immaginario dell'Europa, quella del centrale, del nord, le formiche e quella del sud, le cicale, quelli hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità, i vari greci, spagnoli, ma anche italiani nell'immaginario collettivo tedesco. Dico è un po' grossolana come analisi perché c'entra poco con i veri rapporti economici, ma è un messaggio che arriva in Germania. Fate come noi è il secondo messaggio, noi abbiamo fatto le riforme, io sono abbastanza convinto che quelle riforme hanno avuto un contributo modesto sui successi tedeschi nell'export, era molto più importante l'euro, ma comunque esiste questo mantra, fate come noi, si può anche dire in altra maniera, fate i compiti a casa. Questa è la predica, il mantra tedesco nella crisi dell'euro, dove i compiti a casa vengono definiti fra Berlino e Bruxelles e sono compiti, sapete tutti, abbastanza indigesti per tutto il sud europeo. Nasce quindi, lì siamo alla narrazione, chiamiamola narrazione, c'è una narrazione dell'Europa in tutto ciò? Io non la vedo, cioè la vedo solo ridotta a un racconto fatto di austerità, di rigore, di adattarsi e di diventare tutti un po' come i tedeschi. In primis già è abbastanza antistorico, perché mettere insieme 28 popoli e dire fate tutti come noi, quando le differenze economiche, sociali, eccetera, sono risultati di secoli di storia che non si possono livellare con cinque anni di adattamento economico, culturale, sociale, eccetera, ma soprattutto non è una narrazione molto affascinante, vero? Almeno non all'estero. In Germania invece ha funzionato perfettamente, perché infatti ai tedeschi in quel momento non veniva chiesto granché. I tedeschi essendo una posizione di forza, con una economia che tirava, non c'erano grandi bisogni di adattamento ulteriore, con l'effetto che sempre più in Europa viviamo su due pianeti diversi. Immagino che molti di voi siano andati a Berlino, per esempio, se parlate con i ragazzi tedeschi, anche loro hanno magari le loro difficoltà, ma non hanno scenari fondamentalmente pessimisti. Un ragazzo tedesco a 22 anni si chiede davvero cosa farò da grande? Non nel senso che cosa farei da grande, che cosa avrei voluto fare da grande, col condizionale, eccetera. No, col futuro ha davanti a sé un futuro e lo vede un ragazzo italiano o spagnolo, molto meno, molto più irto di ostacoli l'arrivo a questo futuro. E quindi A, non c'è una vera narrazione d'Europa. B, abbiamo delle realtà e anche delle percezioni dell'Europa, sempre più scisse a mio avviso, davvero due pianeti diversi, come realtà e come percezione.